Che cos'è lo stress, l'ansia, il burn out, gli attacchi di panico? Se ne parla tantissimo e se ne parla sempre di più anche in ambito scolastico. Questo corso online vuole cominciare a darvi degli strumenti innanzitutto per capire meglio che cosa corrisponde a tutte queste parole, per capire dov'è che bisogna cominciare a preoccuparsi e dove invece è possibile intervenire anche in autonomia e darvi degli strumenti che potete utilizzare da soli. Vi aspetto al corso online sperando che vi possa essere utile. Grazie